Teo viene a vivere con noi. Era da tempo che Pierre sognava di riavvicinarsi al figlio. Ecco l'occasione. Buongiorno, Teo. Sei diventato grande. Vado a prendere le sigarette. Vieni. Pensi mai che io sia un vecchio rincoglionito? Mai. Teo pensa che io sia un vecchio rincoglionito. Ieri mi ha accusato di aver adottato le bambine solo per avere la coscienza pulita. Vuoi una birra? Prima devi sottoporti al mio dittafono. Raccontami della tua prima volta. Siediti, dobbiamo parlare. Ho avuto una lunga conversazione con Teo. Dice che voi due... Che hai avuto una storia con lui. Non venirmi a dire che gli hai creduto. Non so più a chi credere. Non mi toccare. Tuo figlio è un mostro. Mettitelo bene in testa. Vuole che mi scacci, così sarai tutto suo. Siamo una famiglia. Dobbiamo poterci fidare l'uno dell'altro. Mettitelo bene in testa.